una frittata bella e buona firmata rai meloni in un colpo solo la nuova governance della tv di stato è riuscita a far precipitare i dati di ascolto del pomeriggio della rete ammiraglia e a far colare a piccolo share di serena bortone che ora con il nuovo programma che sarà rischia la chiusura e stavolta non si tratta di mere indiscrezioni a far pendere la spada di damocle sulla trasmissione è stato il direttore di approfondimento rai paolo corsini durante la sua recente audizione in commissione parlamentare ma si proceda con ordine sono diversi i programmi finiti sotto la lente di ingrandimento per i bassi ascolti liberi tutti è addirittura stato cancellato fulmineamente peccato per bianca guaccero professionista esemplare ed eclettica che si è ritrovata alla guida di uno show senza né capo né coda il terremoto in rai potrebbe non essere finito qui avanti popolo di nunzia de girolamo il mercante in fiera di pino insegno ma condo di camilla rasnovic e appunto che sarà di serena bortone rischiano di saltare in aria anticipatamente ci sono luci e ci sono ombre sulle ombre interverremo ha dichiarato paolo corsin ci sono iniziative editoriali che hanno le loro difficoltà ha messo in commissione il direttore di approfondimento ad esempio avanti popolo è tra queste ma è in piedi solo da quattro puntate faremo le nostre valutazioni anche che sarà di serena bortone lo stiamo valutando ha avuto difficoltà e ancora abbiamo tentato dei programmi che sono stati chiusi perché non hanno avuto riscontro ma altri programmi stanno andando bene tradotto bortone pino insegno rasnovic e de girolamo potrebbero essere chiusi se la situazione non migliora il caso tanto emblematico quanto disastroso a livello di gestione aziendale resta quello dell'abortone con oggi è un altro giorno veleggiava costantemente nel pomeriggio feriale di rai 1 oltre il 16 per cento per motivi sfuggenti mica tanto serena non sta troppo simpatica alla nuova governance meloniana si è deciso di cancellare il talk per fare spazio al ritorno di caterina balivo alla guida della volta buona un pasticcio vero e proprio la balivo ha abbassato lo share di circa il 3 per cento la bortone è stata dirottata su rai 3 nel weekend con che sarà il quale ascolti da dimenticare e infatti si sta ragionando sulla chiusura o meno la volta buona per ora seppur non sta ottenendo risultati soddisfacenti si salva in corner vale a dire che galleggia e a meno che le cose si mettano ancor peggio sul fronte auditel proseguirà fino a fine stagione poi si vedrà quel che è certo è che tutte le illuminazioni della nuova dirigenza rai sono da dimenticare a tirare la carretta sono le fiction e quei conduttori validi per tutte le stagioni conti carlucci liorni eccetera a giusto per non farsi mancare nulla come non menzionare il capolavoro dell'essersi lasciati sfuggire fabio fazio una genialata grazie a tutti